buongiorno amici di viaggio in capo e saluta saluta allora oggi siamo a portopallo di capopassero facciamo vedere questo bello spettacolo che c'è qui guardate andiamo giriamo 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 eccola l'isola di capopassero l'isola di capopassero confermi no? ecco guardate che scenario che c'è qua guardate che meraviglia il posto la gente ovviamente è già in atta eventualmente senza problemi noi siamo con le nostre bici eventualmente insieme con le nostre sunbikes che ci portano in giro per tutta l'italia ma questo è un piccolo scorcio di quello che vedremo oggi poi vi faremo vedere quell'isoletta via che è raggiungibile con le barche vi faremo vedere qua dove si prendono le barche questo è lo finale che si vediamo ciao buona giornata dopo altro scorcio del portopallo lo abbiamo spostato leggermente nell'angolino guardate dalla punta della spiaggetta vi faccio vedere da questa parte qui com'è la situazione guardate qua che meraviglia che c'è lì sotto ora poi ci sposteremo qua sotto qua sotto è scalomandrie però lì via sotto è scalomandrie ora andremo a vissare l'anno vi facciamo vedere si attraccavano le vasche scaricavano il pescato per fare poi le sardine sotto sale quelli che noi chiamiamo sarde masculini perché poi c'era la lavorazione e facciamo proprio le vasche per la lavorazione del pesce non del tonno del pesce azzurro io faccio vedere il giro pian piano per fare continuare a vedere il mare guardate che meraviglia questo è spettacolare va bene ci vediamo tra un po' rimanete collegati sempre a dopo ciao io sono molto più da un baiodato ma quando stavo io avevo un po' e che erano? per evitare a cui me la posta alle cartucce certo però proprio di dire basta trovare un attimino un luogo e buttarlo allora io metterci qua e 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 a a Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.